La Maxi Luna del 2012. Maggio 2012, pubblicato da Roberto Baldini. Osservatori del Cielo, prendete nota la più grande luna piena dell'anno è prevista questo fine settimana. La luna piena avverrà ufficialmente sabato 5 maggio alle 5.35 pm. E poiché la luna piena di questo mese coincide con il perigeo lunare il suo massimo avvicinamento alla Terra sarà anche la più grande dell'anno. La luna oscillerà a circa 356,955 km dal nostro pianeta, offrendo agli osservatori una vista spettacolare di un disco extra grande ed extra luminoso della luna, soprannominato Super Moon. E non solo la luna al perigeo coincide con la luna piena di questo mese, ma questo perigeo sarà più vicina alla Terra degli ultimi anni siccome la distanza della luna varia di circa il 3% perché l'orbita della luna non è perfettamente circolare la luna piena di questo mese dovrebbe essere circa il 16% più luminosa rispetto alla media. Al contrario, entro la fine dell'anno, il 28 novembre, la luna piena coinciderà con l'apogeo, ovvero il punto più lontano dalla luna, avremo quindi una luna particolarmente piccola. Anche se l'aspetto insolito della luna piena di questo mese può essere sorprendente per alcuni, non c'è ragione di creare allarmismi, come avvertono gli scienziati. La leggera differenza di distanza non è sufficiente a causare terremoti o estremi effetti di marea, come spesso accade che si diffondano come notizie. In ogni caso le maree normali di tutto il mondo saranno particolarmente alte o basse. Al perigeo, la luna esercita circa il 42% in più di forza mareale rispetto a quello che sarà durante il successivo apogeo. L'ultima super muon è avvenuta nel marzo 2011. Per osservare la super muon di questo fine settimana al meglio, occorre cercarla subito appena si alza, quando è vicino all'orizzonte. Lì, si può riprendere un'immagine della luna facilmente con uno sfondo di edifici o alberi ottenendo un effetto determinato da un'illusione ottica, che rende la luna apparentemente ancora più grande di quello che è realmente. Grazie e auguro a tutti un affascinante spettacolo.